Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Abitini e Scarpette Gruppo Giocare Para. Questa, la serie originale di 3 7M para palloncino, sacchetto di immagazzinaggio, il fischio. Gioca paracadute noto come para palloncino in Giappone. Tempo paracute, molto popolare tra la classe infantile. Perk. Un grande tipo di 7M di diametro, l'aspetto volont. Si può, imparare che una bariette, di coordinazione e senso del ritmo, e la potenza di espressione, lavorando in gruppo, mentre secondo il flauto e la musica? Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazonity, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.